eccomi qua nuova settimana nuovo giorno nuovo a no 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 nessun nuovo gioco sempre punchline stiamo sempre cercando di salvare il mondo riusciremo non riusciremo chi lo sa carichiamo senza intusione alcuno mantesso buonasera ben trovato come stavano adesso tutto bene non 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 Sì, non è vero. 今夜, nantoしてでも Tomodaを捕まえなければならない あいつの体をのっとっているつぼうちから シンスゴを聞き出すためだ それからもう一つ 理由があった このままあいつをのばなしにしておけば 糸の同級生が三人殺されてしまうことになる あいつの体をのっとっているつぼうちから シンスゴを聞き出すためだ それからもう一つ 理由があった このままあいつをのばなしにしておけば 糸の同級生が三人殺されてしまうことになる ご視聴ありがとうございました クラッシュエディト もいろんまれ だからといって 今すぐ飛びかかっていくわけにはいかない トモダがメーカーの腹を殴らないと Xパーツが壊れず Xパーツが壊れないと その後の展開が大きく変わってしまうことになるからだ 俺はしばらく様子を伺うことにした このまま歴史通りにことが進めば 俺の優待がトモダを撃退し トモダはきっと この窓から外へと飛び出してくるはず そうしたら俺は前のミヤケンと同じように いや待てよ 声は 声はどうするんだ いくらマスクをかぶっているとはいえ この声のままでは俺の正体が 声は 声を聞いたと 声を聞いたと 複数の声が ステムゼンジャーのこと 声を聞いたいに 特殊な電気信号を流すことで 声を自在にかえることができる 便利な機会や Non mi ricordo più niente Non si preoccupi Mantesso Non lo dica nessuno Ma nemmeno io ci sto capendo più niente Però non è finta Facciamo finta di niente Siamo io e lei per adesso Nessuno sa Nessuno ha visto Nessuno ha sentito Semplicemente sorridiamo e annuiamo Dicendo Ah Vero Giusto è così Capito? Questo è il piano Non lo dica nessuno Rimanga tra me e lei Comunque le devo parlare Mantesso Le devo parlare Ho finito di vedere Quel mattonazzo Che è si alza al vento Mamma mia Che lentezza Che tristezza Che noia Mamma mia Due ore e passa Ci ho impiegato Non so quanti giorni A spezzoni l'ho visto E ho iniziato La principessa splendente Che già promette Un po' Di più L'unica cosa Che mi disturba Della principessa splendente Che è un po' Questo stile Un po' Così un po' Da poraci Cioè la realizzazione È proprio un po' Volutamente così Però Un po' Troppo da poraci Un po' Stile I miei vicini Yamada Quello stile Di disegno Che me Insomma Però Vabbè Sembra più carino Poi me ne mancano solo Due Mi mancherà Quando c'era Marni E quello della strega In 3D Mamma mia Ho paura Però Vabbè Passeranno in fretta Forse Chissà So Ho un po' Fin Grazie a tutti 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 Marni l'abbiamo già detto Bubble Poi Mio un amore felino Voglio mangiare il tuo pancreas Weathering with you Children of the sea Modest heroes Aspettino che non si sa per quale motivo io abbia ancora mercoledì in lista poi dove l'è? perché mi ha tolto la lista? cioè bella sta lista dai carica mi sa che sono finiti si sono finiti questi ho che non sono Ghibli ma alcuni mi sa che c'entrano con qualcuno Ghibli o ex Ghibli vabbè comunque questi qua allora carino bubble ok pancreas mezzo capolavoro chi ha tolto la lista pagherà mezzo capolavoro pancreas io è una vita che vorrei rivedere la ragazza che saltava nel tempo o non c'è da nessuna parte quello lì mi era piaciuto tantissimo a me è piaciuto perché Enzoom non posso dirglielo vabbè va bene me ne ricorderò le invio il DVD signorina lei ce l'ha? cioè esiste il DVD della ragazza che saltava nel tempo? che tra l'altro io quello non mi ricordavo mai il titolo non so per quale motivo me lo confondevo con 5 cm al secondo che invece non è niente di speciale ma vabbè altro capolavoro dei capolavori assoluti a Silent Voice quello proprio siamo oltre la scala del capolavoro non mi ricordavo non mi ricordavo mi ricordavo Grazie a tutti Bellissimo, bellissimo Silent Voice, sì sì, stupendo No signorina, davvero? Se le dico il perché, le spoiler o cosa che mi ha fatto saltare un coppaseggio Va bene, va bene Quando lo guardo vediamo se abbiamo la stessa opinione Cinque centimetri, esatto, cinque centimetri No, proprio no No e no E invece la ragazza che saltava nel tempo è una figata atomica Lei ha il DVD, Mantesso? Ma il suo DVD è italiano o solo lingua originale? Mi dichi i suoi segreti, mi dichi Spetti che qua hardwalking iscritta Ma il suo figlio è un po' di più intanto qua stavamo cercando di fare un gesto eroico ma ovviamente abbiamo fallito grazie a tutti è cotto time na ci highest Grazie su questo lascia del solito Creti arz Acting so ORIZINALE, SIGNORINA, SOTTOTITOLO INGLESI, SPANIOLO E ALTRE LINGUE STRANE ONDI WIX CON LA VERSIONE SOTTOTITOLATA IN ITALIANO, ORIGINALISSIMO, ovviamente, sì, sì, sì Io sai che non mi ricordo dove l'avevo guardato Non mi ricordo proprio Non ho proprio memoria alcuna Quindi si assorbita pure i mezzi pipponi shinkai? Eh, e allora no? Sì Me li nomini tutti e ci dico quali ho visto? Mi sa che li ho... ora non vorrei dire ma mi sa che li ho visti quasi tutti? Può essere? Intanto qua facciamo la storia Qua stiamo facendo la storia E lo prendiamo, Tomoda E comunque Saranno anche pipponi quelli di shinkai Ma non arrivano alla noia Alla noia di alcuni... alla noia incredibile di alcuni film ghibli Mi spiace, eh? Cioè, veramente io alcuni film ghibli Dalla disperazione li ho messi in italiano Li ho messi in sottofondo Li ho messi a due per Perché non se ne poteva uscire Cioè, non se ne poteva uscire proprio Quello là della... Aspetta, come si chiamava? Aspetta, adesso devo rivederlo Devo vedere il titolo, allora No, ma la collina dei papaveri era osceno Osceno Si alza il vento Noissima I racconti di terra-mare Quanto brutto Poi, impietuoso Avendo visto poco prima Il castello errante di Howl Che è un capolavorissimo Cioè, vedere i racconti di terra-mare È stato proprio... Mamma Una tortura Una tortura Allucinante, mamma che... Lo sommato shinkai passa Oltre il nuvole Ecco, quello non l'ho visto Cinque centimetri al secondo L'ho visto Il giardino delle parole l'ho visto Mi è piaciuto tantissimo Tecnicamente Storia, vabbè Your name visto Weathering with you Ce l'ho da vedere E viaggio verso Agartha Non l'ho mai visto Quindi me ne mancano Pen Do Dovrebbe esserci un corto Lei è il gatto Che era molto carino Stavi giocando a Scribble Knights Nauts Sai che lo conosco di nome Ma non ci ho mai giocato, Simo A Scribble Knights Nauts Mamma mia, non so parlare Lei è il gatto Mi sa che l'ho sentito Anche quello nominare Ma non... No, nemmeno quello l'ho visto Che poi Alla fine anche il giardino delle parole Non è lungo È più tipo stile corto Che vero e proprio film Ma è bellissimo A vedersi bellissimo È bellissimo Praticamente va in giro Ad aiutare la gente Con il taccuino Ma Su che piattaforma è uscito Perché io mi ricordo Uno Scribble Knights Per DS addirittura Centinaia d'anni fa Probabilmente Dovrebbe uscirne Uno nuovo a breve Suzume no Tojimari A sé Su tutte Rende meglio su PC Perché Ha dei controlli particolari Comunque io ho commesso Un fatal error Devo rimediare Un momento Perché ho tolto le notifiche Ma Non vedo neanche i trofei Io voglio vedere i trofei Mannaggia alla popandra Intanto abbiamo fermato Lui Anche se non vedi i trofei No niente Pensavo voce alta Mi scusi Bravo Ha capito tutto Mantesso Noi siamo qua Voglio ricordare Numero uno Per i trofei Numero due Per le mutande Numero tre Per salvare il mondo Proprio in quest'ordine D'importanza Due trofei Tre trofei No no Due mutanda E tre mondo Forse dal quattro in giù c'è altro Forse no No Lo sanno tutti che i punti sono solo tre Non sono mai quattro Tre Quindi Mi spiace Ancora con sta storia Che devono dominare il mondo Mettendo quegli individui Speziali In questi Rifuzi Quindi solo trofei Praticamente sì Praticamente sì Mantesso Questo cospe Questo cospe di Spider-Man Hai visto che roba In questo modo Sì In video speciali signorina Wink wink Quindi ho interferito e non succederanno le cose che succedevano prima. Yuta è speciale? Dalle regie mi dicono di sì. La comandante ha parlato. Quindi ci ricorda che cosa sono questi individui speciali, cioè delle persone che possono rimanere uberificate a tempo indeterminato, ma 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 per crearli c'è bisogno delle proprietà rigenerative di Mui, l'orsetto. Se lo chiedevo di me mi mandava tutto a posto, niente. Pensavo, ecco. Quindi per ora, per ora, piano in stand-by, ma un giorno proverà di nuovo a rubare l'orsetto. Tutto il T-659 è iniziato a lavorare. Non smette mai. È una stacca nuvista il T-659-001543. Tocco. Quindi sostiene che l'orso era loro, in principio. Sta solo cercando di riprenderselo benissimo. Buonasera, Leonida. Come va, Leonida? In ritardo, Leonida, eh? In ritardo? È di 31 minuti e 58 secondi, eh? Fermi tutti, finalmente ci dicono una cosa che non sappiamo, cioè che quell'orso è stato creato alla Uber Labs. se ha preso un sacco di loro, onorevole. Ma, ma, questa è la prima cosa nuova che ci dicono, in mezz'ora. Solo l'orso stupefatto. Sì, solo l'orso. Il resto erano cose, insomma, erano cose. Questo è quello che sappiamo anche noi, che è scomparso uno degli scienziati, degli scienziati, è scomparso con tre dei soggetti, che altri non eravamo che noi. I tre bambini speciali, ecco, sta parlando adesso di noi. Quindi, dopo che è successo il fatto, hanno spostato i laboratori nei sotterranei e, dalle ricerche... Meno male che me lo spiegava il gioco che si aspettava a lei, fischiette. Non so di cosa parla Mantessa. Quindi, lui ha sviluppato la teoria base della uberificazione e anche il virus Hercules. Io non ho scritto niente la tastiera pigiava da sola. Non ho parole. Bravo, bravo che nutre il duca. Non ricordo niente. Ecco. Ah no, l'ho preso. Dove chiamare Melissa, ma non ti preoccupare che Melissa arriva. Tra un po' Melissa arriva, torna a casa, sgommando con la magina. No, l'ho preso. Sarà meglio di no che ieri mi ha tenuto due ore che si montava le gomme. Gomme nuove, altro motivo per arrivare sgommando, ovviamente. Che fai? Non le collaudi? Grazie. Intanto lui, intanto lui, ha appena detto che ha trovato la sua famiglia ammazzata, bla bla bla, e che non se l'è presa con quelli che le hanno ammazzati. Ha deciso di prendersela con l'umanità tutta. Cioè. No? Tanto. Io a passare gli attrezzi come un pivella alle prime armi, mi ha giusto concesso di controllare la pressione. Fine storia triste. Ma ha controllato la pressione sua o la pressione delle gomme da magina? La pressione sua tua, intendo, Mantesso. E intanto questo pazzo furioso ha detto che siccome l'umanità è imperfetta, beh, è ora che evolva e si perfezioni. Wesker, is that you? Prima la mia, poi la mia macchina, poi la sua. Ha visto che vendettona che ha messo su, ecca là. Sì, sì. Comunque io devo dare un'occhiata ulteriore al high timer di Stream Elements perché è troppo molesto. Cioè, io, boh. Non capisco. L'avevo impostato giusto una volta. Ora non so perché fa cose... Sono, sono scioccata. Vediamo un po'. Vediamo un po'. Capito, va bene che deve parlare, però, insomma, non così in maniera molesta. Timer. Non capisco. Cioè, e comunque hanno un numero minimo di righe. Beh, poi ci guardo bene. Non ho parole. Qua è sempre tutto in ribellione. Non lo trovo giusto? Quindi, insomma, lui ha creato il gruppo terroristico perché vuole perfezionare l'umanità, fondamentalmente è pazzo. E quando ha creato il gruppo Chiumei, aveva già il potere della uberificazione. E utilizzava questo potere per fare dei miracoli, diciamo, tra virgolette. E i cretineti in vacanza che lo vedevano, lo seguivano, lo prendevano come oro colato quello che diceva. Mettiamole ai voti, signorina. Opzione 1, zittisci un voto. Chat. Opzione, lascia fare. 7659 voti. Decisione, zittisci. Non l'ho zittito, non l'ho zittito, l'ho lasciato così. Il tutto è quello che non è un'esplorità. Il suo spirito è il tuo V, è il suo V, che è un V. Il V è un'esplorità del livello di sviluppo. È un'esplorità di trasferenza, è un'esplorità di trasferenza. Quindi ha trovato sempre più seguito con l'utilizzo del potere. Ed è così che si è convinto che appunto questi... Questi individui speciali sono una naturale evoluzione e devono essere loro a sopravvivere perché si tratta di selezione naturale. Se seguiamo l'albero questo qua che cade all'indietro rimane lì? Non lo so. Proviamo. Cosa fa? Si brilla? Ha lasciato il corpo? Cosa fa? 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 Cosa? Qua stiamo sempre salvando il mondo. Anzi, non stiamo ascoltando mica troppe consigli del gatto perché il gatto, secondo me, ci frega. Cosa fa? connessione per piacere si buona abbiamo disobbedito al gatto e abbiamo cambiato la storia fondamentalmente perché altrimenti sarebbero morte delle persone e noi non volevamo l'obiettivo è sempre quello di cambiare completamente la storia ed evitare che l'umanità venga distrutta dall'asteroide finalmente lo spirito che era nel soldato l'ho abbandonato è stata la morte più lunga della storia videoludica ma veramente super o taskeman infatti superhelper man quindi Qua sta succedendo la solita cosa, che lei dà la colpa all'orso e dice che quindi l'orso non deve stare lì. Quindi rimetterà il limite di tempo per tenerlo solo fino alla vigilia. In questo caso non è che allora è cambiata così tanto la storia. Adesso siamo di nuovo attivi forse per la scienza, ma ho il dubbio che di mutande non ne vedremo più, perché non essendo più lui uno spirito ci attacchiamo. Da adesso in poi, secondo me, tutti questi capitoli qua saranno solo, solo, solo visual novel, solo storia. Beh, vediamo lo stesso le mutande a quanto pare. Oh no. Adesso che lo so sono triste, non è esserlo, c'è stato un attimo di tristezza, ma appena abbiamo realizzato che era morto per davvero è partito. Non è esserlo, non è esserlo. 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 Beh, sei che ero. Credo. Non è esserlo. 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 mangia più di melissus duke però è che cos'è deve crescere mantesso deve crescere deve diventare grande e forte il piccolo duke intanto abbiamo stupito meika con effetti speciali perché sapevamo esattamente qual era il suo problema quale pezzo si doveva cambiare e lei non riesce a capire come facciamo a sapere questi fatti e ora vuole sapere da noi come mai sapevamo quindi mi sta dicendo che arriveremo in un punto del futuro dove si vedrà quasi solo duke a video come ha fatto a scoprirlo mantesso come fa a saperlo si avvera così senza anestesia ma sì ma meika è una tosta è una dura no Grazie a tutti Oh, oh, stiamo per disobbedire di nuovo a Ciranosca Stiamo per raccontare tutto a Meika Lei ha detto deve crescere, sono furbo io, bravo Antez Lei sì che legge tra le righe E già non può, se si stacca la corrente poi non può autooperarsi Esatto Ah, no, glielo diciamo Non è nemmeno, è quello Ma non è nemmeno Ma non è nemmeno Non mi sento solo Non mi sento solo Ma non mi sento solo Ma non mi sento solo Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Ok, intanto qui stiamo avendo un flashback di lei e il nonno, nonno che sta per passare la miglior vita e le chiede, ti ricordi i quattro compiti che ti ho dato? E lei dice, certo che me li ricordo. Ho sbagliato, non volevo fare il quick save. Quindi primo compito proteggere casa Korai, secondo compito proteggere, crescere e mantenere una certa ragazza, mantenere e supportare una certa ragazza e farla diventare un'eroina, cioè Mikatan. Terza cosa, formare l'associazione segreta Justice Punch con Mikatan e la quarta è sei anni dopo questo momento che stiamo vedendo, gli ha detto che sarebbe arrivata Akina Iridatsu, che è la sorella di Yuta e il compito suo era di farla trasferire lì. Ma non devi collegare quel filo, te lo dico io che lo so, che ho lo zio che fa l'elettricista, glielo ho sentito raccontare. Non, non, non. Non, 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 non. Non, 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 non incontrato questa ragazza proprio oggi gli ha lasciato un appunto per sapere loro il luogo e le ha detto che non sarà però solo lei a lavorare per la sicurezza del mondo ma lavoreranno assieme perché anche Meika è un membro dell'associazione allora le ha svolti i compiti Mikatan la porta Adila allora vado grazie mille benissimo Grazie mille Veramente stiamo rivedendo questa scena? Io l'avevo dimenticata C'è più caro, perché è strano. B Per quello la fanno rivedere il gioco sa che non ce la ricordiamo, mannaggia. Il nonno sapeva anche che lei avrebbe incontrato questa persona mascherata in modo ridicolo e che anche questa persona sarebbe stata un membro dei Justice Punch. Ma come fa il nonno a sapere tutte queste cose del futuro? Noi siamo il nonno! PAM PAM PAM! Il nonno sa troppo, esatto. È come se il nonno avesse viaggiato ripetutamente nel futuro e stesse cercando di indirizzare Meika, di aiutare Meika a indirizzare qualcuno o se stesso sulla strada giusta perché non avvenga la distruzione del mondo. Il nonne Doc. Sì, lei sì è un robot. Assolutamente sì, Meika. Quindi Justice Punch sta per, non pugno, ma i cinque. I cinque della giustizia. Cinque membri sono infatti. E' una cosa che si chiama la giusta. Ma cosa che si chiama la giusta? Sì, le due le due? Noi, le cose che si chiama la giusta. Ma cosa? Perché le cose che si chiama la giusta? Perché le cose che si chiama la giusta? La giusta? La giusta? Ah, è tutto il nonno. E' una giusta la giusta. Scusa, ma Aniki? Aniki? Aniki non è maschile. Mi confondo. Ha detto Aniki. A parte che lei sarebbe Onesan, la sorella più grande, no? Non lo so, le parentele... Non sono abbastanza studiata sulle parentele, però mi pare che la sorella più... Per indicare la sorella più grande, e lui ha la sorella più grande, sia Onesan. Mentre Ani... Aniki è il fratello. È fratello. Più grande, se non erro. Boh. Allora, intanto lui ha chiesto per quale motivo la sorella di Yuta è stata accolta in casa, e Meika non ha una risposta, però ha delle idee sul perché. Io ho sentito Aniki. Aniki è il fratello maschio, più grande, giusto? Perché quello più piccolo è Imoto? Credo. Forse. Non lo so. Oto, otto? Akina ha, in questo modo, una cosa come un'esercizio. Unesercizio? Akina è venuto qui, perché Aniki è venuta, e quindi Lava è venuta. Lava è venuta qui, perché l'Ito è venuta. Il momento della sorellina, ok. E Aniki chi è? Ani che è maschile mi conferma almeno che è maschile? Boh Dov'è il mio telefono? Adesso devo aprire Pet Nadimo Un momento Adesso Apro Duolingo E vado nella sezione di tips E Ani frate Appunto ha detto Anichi Lui Non Ane Ani Qua mi stanno fregando Mi fregano Allora Quindi Ani E' il fratello più grande Quindi Ani E Oni San Il maschile La sorella è Ane Onesan Al femminile Lui ha detto Anichi Comunque Vabbè Chi sono io per contestare la localizzazione Quindi Lei dice che Akina Ha fatto un po' da calamita No? Ha tirato qua Tante altre persone Tante altre persone Tante altre persone Ani San Onisani Fratelli di altri Lei pensa che suo nonno sapesse che cosa sarebbe successo alla casa Korai Ecco la domanda che mi sono fatta io Come faceva Tenga A sapere Il futuro Pensa che abbia a che fare con il comunicatore che c'è in cucina Non sono troppo sicura di sta roba Mio nonno So Nonno altrui Ogji Segno Segni Mette in conto All'onorevole Come sempre E infatti quella roba lì è solo un fax Ovviamente Signorina Wink wink Bravis E infatti è stato un po' di me è stato un po' di me Una novità, si balla Mai vista sta sigla No, 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 no Beh, salviamo, certo Che fai non salvi? Perchè piange Mantesso? Sta sentendo sgommare da fuori? È arrivata? Sta tornando? No, 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 no Sto sentendo sgommare da centro città, aia Percepiscola vicinamente, tutto finito Non dico così, non dico così Non dico così Non dico così Intanto qua stiamo discutendo del fatto che siamo entrati in camera sua Ma Lei non lo deve sapere Lei deve pensare che siamo andati lì perché c'era l'orso che faceva casino E quindi siamo andati a controllare Ma non è vero? E lei si stupisce del fatto che noi sappiamo dell'orso Però le abbiamo detto Cioè, ovvio che lo sappiamo Abbiamo la stanza vicino alla tua Abbiamo sentito tutto Adesso è sempre colpa dell'orso, esatto Sempre Tac Ciao è che la scuola di Tommodano si rilassero il nostro paese. Il pass numero di paese è già capito, prima di inserire il nostro paese e rilassare il dispositivo di Tommodano, e poi di cercare la porta e la scuola di Tommodano. Poi, in questo modo, il sistema di Tommodano si rilassero il sistema di Tommodano, e il Tommodano si rilassero il nostro paese. Perché hai fatto una cosa che si tratta di questo? Il motivo è facile. Il motivo di rilassare la storia. Quindi, nel frattempo, abbiamo disarmato la bomba, fatto un sacco di cose per ricreare la storia, come è andata di là. Ha fatto tutto questo in modo che si vada a ricreare la situazione per cui Meika va un po' più d'accordo con l'orso, lo accetta un po' di più. Poi mi sono preso l'aggeggio e mi sono fatto brillare. No, ancora no. Non brilla niente, per il momento. Non brilla niente, per il momento. Si tratta di un po' di più, non c'è un po' di più. Non c'è il problema. Non c'è il problema di questo. Non c'è il problema di questo. Non c'è il problema. La brilla niente, non c'è il problema di questo. Viva! Di già! Non colleghi i fili, mantè il sussi, plaki! osas Grazie a tutti! Grazie a tutti. Grazie a tutti. Party Party Trofeo ha visto Mantesso? Trofeo ci hanno dato il trofeo che ci spetta ed è il trofeo di inizio capitolo. Ci piacciono questi trofei totalmente a gratis solo perché sei qua davanti che stai schiacciando X sono quelli più belli, meravigliosi. Eccomi per bene, bravo Leonida. Hai condotto attività illecite fino ad ora, bravo, bravissima, bravissima. Bentonnei comunque. Sono quelli che prendo io, sono i trofei migliori Mantesso. Grazie a tutti. In realtà dovevamo staccare prima ma continuava a crescere una missione. Ma stavi giocando con Andrea? A Dying Light? Aha! Beccati! Beccatoni! L'onorevole ai secreti signorino ho visto. Ho visto Mantesso ormai ma ormai. Ormai lo so che ha i secreti. Stasera non ci abbiamo iniziato alle 14.30 circa ma siete arrivate ad un punto e poi dice a mezzo. Tra l'altro, tra l'altro sto ancora aspettando che mi facciate sapere quando devo fare il quarto uomo. Perché? Cioè. Capito? Io aspetto eh? Aspetto. Aspetterò in eterno probabilmente. Appena può. Appena può chi? Ah e ti ricordo che mi devi sganciare. Tu! Mi devi sganciare tu il tuo account. Devo solo ricordarti questo piccolo dettaglio molto significativo. Ah! State giocando la versione Play 4 vero? Sì non esiste una versione Play 5 di quella roba lì. Sì non esiste una versione Play 5 di quella roba lì. Sì non esiste una versione Play 5 di quella roba lì. Sì non è stata una versione Play 5 di quella roba lì. Sì non è stata una versione Play 5 di quella roba lì. che vergogna si fanno le cose secrete fra di loro non ha parole si imbavaglia nessuno vuole giocare questi giochi stupendi col parkour mamma mia mamma mia 3 6 6 6 Noi non erano mai avanti... Ma non è capta che ciò che ci si vede. Non lo so che ci sia mai passato. Ma non è pieno di solo non essere avanti. Ma a che ci sia il compito. Non lo so che ci sia il compito. Ma perché nonostante la mia proposta al centro del bambino? È stato venuto per me, dovevo portare i Ghiuto. E ho messo la mia nome per il ghiuto. Grazie a tutti Intanto stiamo parlando con Rando, il fratello, che al posto di comportarsi da fanatico è andato contro i piani del gruppo Kyumei, ha preso l'orso perché ha pensato che l'orso era fondamentale, quindi senza l'orso non avrebbero creato i superuomini e non avrebbero potuto portare avanti il piano, senti che genio, e quindi ha portato l'orso da Ito. Come stai moglie? Ben? Hai finito tutti i fatti di oggi? Jane? Me ne ricorderò. Sì, hai visto moglie? Abbiamo il gatto, il duca. Ecco, è arrivata la festeggiata, abbandono il pizzì, ecco. Ecco. È finito il momento di dominio mantessiale. È durato quello che è durato. Eri al telefono? Strano, non capita mai. Straniss. Anzi no, straniss moglie, scusami. Straniss, ma non capita mai. Come la festeggia, onorevole? Come la festeggia, onorevole? Mi piace questo gatto perché non l'hai messo prima. Perché il gatto, in realtà ce l'ho da un bel pezzo, ma ce l'ho solo quando streammo da pizzì. usando BS. Siccome sono rare le volte in cui streammo da pizzì, allora non l'hai mai visto. Tra l'altro, moglie, se gli dai dei comandi, fa cose. Se tu premi punto esclamativo duca, puoi vedere la lista dei comandi che li puoi digitare. Vediamo se riesco a farlo. Là. E fa cose. Oltre che salutare la gente che arriva e reagire alle cose che accadono. È un problema che è stato fatto per il caso del caso del gatto. E' ancora un problema che è stato fatto per il caso del gatto. Eh, è vero, ma è un po' diverso. Eh? Quindi lui ha inscenato un incidente, però non è per colpa dell'incidente che ha finito l'ospedale, è perché quelli del gruppo l'hanno malmenato. Ovviamente l'hanno malmenato perché ha lasciato scappare l'orso. Ed è lì che lui ha deciso di lasciare il gruppo. Ma per potersene andare doveva dare 10 milioni di yen. Che non so quanti sono in euro, però mi sa che sono tanti. Sì. È così. E ha pagato la sorella. Tra l'altro la sorella ha sempre cercato di convincere lui a lasciare il gruppo, ma non ne voleva sapere, litigavano per questa cosa qua. E nonostante questo, nonostante i litigi, la sorella ha pagato quei 10 milioni di yen per far sganciare lui dal gruppo. Melissa, buonasera. Bene, bene, dai. Tu come va? Il mantesso intanto piange, si dispera. Alla prossima. Alla prossima. Alla prossima. Oh no. Si porta avanti. Quasi quasi mi porta avanti anche io. Però forse ha finito. Abbattetela. Mi ho trascinato il cadavere nella mia caverna. Leonida. Non si dice. Quasi. 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 Sì, come se vede in un'altra parte, come si tratta di un'altra parte. C'è anche il nostro corretto di strumenti e il il nostro corretto di strumenti che si tratta di lavorare. Sì, no, no. Alla ora, la team è solo un'altra parte di me e i 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 i. Quindi, la chiamata di un'occhia? È un'occhiaire che è possibile. È possibile? Intanto stanno parlando della sicurezza di Casa Korai che è abbastanza avanzata eppure non ha impedito all'uomo tartaruga di arrivare qui. Però, vabbè, già sei in. C'è un'altra cosa? C'è un'altra cosa? 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 ok nemmeno io ho parole belice il record della sette il record della sette per quanto riguarda lo questo il numero ultime il record della sette il record della sette il record del record si accendo Grazie a tutti C'è un libro molto divertente, mi sembra di leggere! Ah, allora posso farlo? Eh, hai fatto? Sì, quando l'ho portato alla scuola, mi sono riuscita, ma sono arrivati a qui. Ah, ma ora è nella scuola. C'è l'altro? C'è l'altro! C'è l'altro che mi ha pensato prima, ma potete sentire? Non mi dica che il compleanno ricordavo fosse dopo il 10. È il compleanno? Io non so niente. No, no, Mantesso che fa? Non ce lo dice? Confessi? Non send? Ma come non send? Confessi, ci dichi la verità, non vorrà mica che ce lo chiediamo a Melis. Ci fa fare le figuracce il Mantesso, uè. Lei, Mantesso, lei, io non sono brava coi numeri, non mi ricordo niente. Io non ho detto niente, ecco appunto. No, non mi ricordo. Io la festeggio sempre quando torno a casa. Ma, ma, qua a gatta ci cova. Adesso, la mia vita è un progettivo, e la mia vita è un progettivo. Ma, è chiaramente la mia vita. Quindi, non ho detto. Non si, non se, oppure dai. Noi, E'Liida 2, tu anche, non ho pensato? D'accordo. È il giorno... Grazie a tutti. Non è il mio compleanno Leon forse. Quanta seconda ce la raccontano giusta? Non ce la raccontano per niente giusta qua. Non è oggi Leon davvero. Perché fischietta? Non è così. Non è così. Non è così. Non è così. Sono sicuro al 100% non lo sia e dopo il 10 è prima del 15, sicuro. Quindi oggi cosa si festeggia? Quanto abbiamo fatto un figurone cantando la canzone delle Shizmei, gruppo del quale fa parte Mikatan. Non c'è proprio... 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 Ma... Ma... Non c'è proprio... 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 Oh? Oh? Non c'è proprio... Hai finito di cantare? Mmm... Non lo so... quando hai giocato il caso di giocato? ... ... ... ... ... ... ci ringrazia per averla salvata durante il giorno del pullman l'incidente che si è visto proprio all'inizio gioco come stesso me sonorevole non sto a capire che sta succedendo nessuno lo sa Leonida, nessuno lo sa è il 12, 12, 12, i neuroni hanno urlato Eureka Eureka Ah, non mi ricordavo La reazione della moglie dice tutto Li ho sentiti fine qua Leon Top onorevole Comunque ci ha detto che nei nostri confronti sente anche una certa vicinanza no? Però non in quel senso lì Niente, voleva dirci solo quest'altro, quest'altra cosa Anche io voglio mangiare la beef bowl Il giudon Quanto me lo mangerei Buttarà giù dal tetto Domani riavrete il cuore Eppure lei, miss moglie Cosa sta dicendo Leonida? Eppure lei, mi ricordavo Ah, ho capito cosa intende La sabbe Ah, quindi è con lei che Melissa tratta i miei organi Bene, me ne ricorderò Ahia Stia buono, l'amo ugualmente Attenzione Attenzione So much love Ah Ma Somma Ora però io voglio dire È inverno C'era la neve fuori E questi sono fuori E questi sono fuori Dalla casa sul tetto Con la camicetta La calzetta cosciale Con tutto de fora Cioè Vabbè Vabbè Messa bisogno del badge Attenzione Sì 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 Quindi adesso si sta ricordando che Narugino ha furia di usare il potere, no? Come punch cosa, non mi viene il nome, usando questo potere deteriora il suo corpo. E finché, se va troppo avanti, rischia di morire praticamente. Almeno il divano è messo bene, sì, guarda, è proprio freschissimo il divano, top. Io ho le calze di lana e ho un pinguino che fa capolino dal chiulino, ma anch'io ho freddissimo. Top dipinto, onorevole. Punch cosa? Come si chiama? Punch juice, punch juice, non mi veniva, oh. In fondo sono solo 30 ore che sto giocando a sto gioco. Brava moglie, divano appena uscito da poltrone e sofà. Beado ghi sofà, il sofà. No dai, adesso è artigiani della qualità. O forse non è neanche più artigiani della qualità. Di sicuro quello che ha rifatto il logo di poltrone e sofà è un genio. Un genio dello schifo. Ma vabbè. Intanto stiamo cercando a convincerla di non fare più... L'eroina, perché rischia grosso, però lei dice che Meika l'ha rassicurata di avere ancora un po' di tempo. Quello è talento, ah pardon, pardon, ma chi sono io per giudicare? Talento, un logo bellissimo, bellissimo, design 10-10. Una volta ho voluto pagare un divano senza rate e non hanno voluto, benissimo. Le poltrone e sofà danno un più 29 all'ingravidazione, però sono comodissime. Ok. Intanto lei dice che non vuole... Non vuole smettere di fare Strange Juice perché deve vendicare la morte di colui che l'ha cresciuta fino a un certo punto. Non vuole smettere di fare E quando è diventato X-Factor? Non lo so, ma è la canzone fondamentale per farle capire, capito? Capito? Per farle capire tutto, no? Benton Nemelis. Qualcuno l'imberga nella vergogna, a quanto pare. Comunque lo dico, per me no. Ma schifo, vero? Per me no, sì, 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 sì. Direttamente dal pertugio del demonio è uscito quel robo, ma veramente. Intanto stiamo facendo capire chi siamo, no? Una platta con le mie dimensioni, ma non la voglia. L'ha capito. Cioè, questo corpo era di lei, capito? Capito? Cioè, lei è di fronte al suo corpo. Eh? Capito? Voglio non guardare. Qui ce ne sono Pino, esatto. Era di lei chi? Era di Chiyoko. Chiyoko in quest'altro corpo che non è il suo. Il corpo di Chiyoko è il corpo di Yuta. Che è Pine. Non si sa... Manca un corpo. Ci sono due corpi di ragazza, ok? E manca il corpo di Pine, che ancora non sappiamo dov'è. No. Erano due femmine e un maschio. In tre. Swap Boris è troppo un titolo da filmose. Cioè, il maschio, l'anima del maschio, il corpo astrale del maschio, è dentro il corpo di Yuta, che era il corpo di questa qua. Questa qui, Chiyoko. Il vero nome è Chiyoko. Però è in un altro corpo femminile che non è il suo. Non mi ricordo come si chiama l'altra ragazza. Però, fondamentalmente, manca un corpo all'appello. Manca il corpo maschile. E' per questo che Yuta si fa chiamare Yuta e si comporta da maschio. Perché lui, comunque, è il corpo astrale di Pine, che è maschio. E nonostante abbia il corpo femminile, che era quello di Chiyoko, lui si veste e si comporta e si identifica come maschio. Però non è nel suo corpo. Perché non si trova al corpo. L'anima del maschio è dentro il corpo di Yuta, esatto. L'anima di Pine è dentro il corpo di Chiyoko. Guriko? Sì, forse ha ragione il mantesso è Guriko. Quindi questo corpo è di Guriko. Il corpo in cui è dentro Chiyoko è di Guriko. Guriko, Chiyoko e Pine. Ok. Ci ho messo cinque secondi a collegare, benissimo. Onorevole, ho dovuto rileggerla per capire. Hai te cattolo! Hai! Hai! Oh! momento grammatico comunque ormai non mi capite più che brutta fine che ho fatto sta piangendo un epizema polmonare una delle due cose quindi qua stanno rivivendo un attimo il momento dell'incidente lei chioko è stata salvata da professor scienziatone shigata ma si è ritrovata nel corpo di guri ok mentre pine si è ritrovato nel corpo di chioko e il corpo ha detto che ci è rimasta molto male di aver rubato il corpo di guri e ha pianto per tre giorni piacere scienziatone shigata si esatto basta ho deciso che l'annunciolata deve concludersi nel mio stomaco no leonida non te ne mangiare due chili che poi stai male mamma mia ha detto che shigata gli ha dato una spiegazione lunghissima su quello che è successo ma lei non si ricorda nulla benissimo avevano solo otto anni quando è successo e lei non capiva quelle cose complicate adesso quanti anni avranno il doppio 16 16 18 una roba del genere sono ragazzini comunque una sedicinquina la signorina è più o meno quella più o meno quelle tali brava melisse che sfama il duca quindi adesso sta raccontando il suo passato insomma quello che è successo con shigata sappiamo già che è successo che l'appartamento è andato a fuoco no? e lei è stata raccattata da meika e cresciuta da meika ricordiamo che loro si stavano nascondendo dalla gente del laboratorio non potevano essere trovati catturati e lui si è sacrificato fondamentalmente per permettere a lei di salvarsi e di continuare a nascondersi si brilla per il mantesso non si brilla nessuno qua e lei è stata raccattata da meika e lei è stata raccattata da mei marinai che ci seguono si scherza ovviamente si 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 i marinai mantengono le promesse si sa moglie piange in una maniera estremamente fastidiosa non so perché hanno la mania di fare ste voci super super stridule boh che poi comunque non è che va molto meglio nei doppiaggi inglesi nel caso di giochi giapponesi no? perché il doppiaggio inglese comunque bene o male replica anche abbastanza i toni anche lì ci sono dei toni molto alti molto striduli che sono un po' difficili da ascoltare però vabbè ci li dobbiamo far andare bene comunque e comunque io detesto la cannella mi fa proprio schif boh avrà una tantina d'anni povera 80 un'ottina ottina ho letto ho letto ottantina niente io ce l'ho l'otto e l'ottanta niente non mi entra la differenza di qualche decina è giusto quel poco comunque io ho dei problemi nel senso io con i numeri proprio ci sono la disperazione è una cosa incredibile incredibile otto uguale 80 oh no 80 allora otto è 8 otanta è 18 non lo so perché ovviamente siccome ho problemi con i numeri in italiano figurati in giapponese cioè proprio un incubo non ho problemi con i numeri in inglese nel senso che quelli più o meno che poi non è vero perché anche i numeri in inglese quando sono tanto lunghi non ci capisco più niente proprio boh tra l'altro adesso che comunque non sono abituata mentre quando andavo al liceo comunque a scuola ero abituata leggevi le date facevi matematica facevi finta di fare matematica e leggevi anche i numeri di adesso se io devo leggere numeri grandi faccio fatica e comunque devo avere dei problemi con i numeri io non so l'italiano figurati il giapponese non dire così moglie no aspetta adesso mi è partito il trip devo scrivere in giapponese 80 e fare controllare al mantesso severo aspettate ce lo scrivo in giapponese aspetti non riuscirò mai a scriverlo chi glielo spiega la tastiera coi kanji aspetti staremo qui staremo qui tanto avete da fare no non credo allora allora aspetta no così o al contrario perché questo è hachi e al contrario hachi giù giù hachi giù hachi vuol dire di 10-8 18 quindi hachi giù 8-10 no è giusto 80 quello lì e me l'ha detto la tastiera predittiva comunque prima ho detto 18 sono riuscita hachi giù quindi prima io ho detto giù hachi ho detto 18 prima giù hachi è 18 no? adesso non è manco 18 figurate me la voglia più o meno è andata così giù hachi allora è giusto hachi giù poi quell'altro è hachi e quindi giù hachi è 18 dai almeno mi dica che giù hachi è 18 mi brillo vuol dire che non ho capito niente giù mangi siamo tutti d'accordo ecca là così sì così beh 18 è giusto quindi il contrario giù hachi è 18 almeno quello giù si brilla lo stesso però grazie grazie del sostegno Mantessa non ti preoccupare le beef ball dalle me dalle me non vanno buttate meica dammela a me dammela a me si figuri io sostengo io ah se mi ha detto appena adesso di brillarmi non ho parole 6 l'okuni cos'è che ha detto lo devo risentire è troppo veloce non capisco niente come meliss mi insegna è un si brilli di incoraggiamento lo devo risentire mantesso io non capisco niente non so come dirglielo cioè è difficiliss c'è un pollo che non vissi è un pollo che penso ma te la mandala guarda non mi sembra Quanta modernità! Quanta modernità in questo stream. Io non ho parole veramente. Quanta modernità non c'è qui. Quanto non c'è qui? Quanto non c'è qui? Quanto non c'è qui? Sì, che cosa ha fatto? C'è una cosa importante. O? C'è qualcosa di oggi? Non ho parlato di Nalugino? C'è qualcosa di oggi? Non, non ho parlato di Nalugino? No, non ho parlato di Nalugino. C'è qualcosa di oggi? C'è qualcosa di Nalugino? C'è qualcosa di Nalugino? Non c'è bisogno che mi incacciate, conosco la strada. Ma no, stia qua, dai, dove va? Stia qua. Ormai. Ma no... E? ...dicendo che Narugino non è che sta troppo bene, e quindi le abbiamo chiesto di fare un altro esame approfondito per vedere lo stato di salute. vogliamo convincerla a non prendere più i panni a non mettersi più nei panni di Strange Juice ormai, ma sì, ormai il livello è questo qua, Mantesso ma sì, Leonida, ormai c'è la Leonidite abbondantemente diffusa le usciamo anche il manganello quale manganello? niente, è tutto finito onorevole oppure è iniziato? the end is the beginning is the end o the beginning is the end is the beginning che sono due, dico due, canzoni degli Smashing Pumpkins due, prego, scusate per la lezione di musica nel dubbio, pappa, bravo, bravo, Leonida, sfama, duca hai fame, moglie, cosa ti mangi stasera? è quasi ora comunque inizia la fase dell'odio, lo sapevo, quale fase dell'odio? cosa mi sta narrando? mangi la pizza, moglie, buoniss io mi sono appena fatto fuori 270 grammi di nocciolata in quattro pancarree no comment no comment no comment la mia pagina è inizia la mia pagina Ovvio onorevole, spero contemporaneamente onorevole, ovvio onorevole a cucchiaiate spalmavo, tanto è senza latte, e beh certo, domani cadrà un meteorite, ecco, il fischione scongiurato. Tempo che manca alla distruzione dell'umanità? Cinque giorni, attenzione, si balla? Sì. Basta! Invece no. Siamo solo al capitolo 18 quasi, di 22. Pulisciti, Leonida, per questo affronto mantessiale. Siamo solo al capitolo 18 quasi. Ho rovinato i piani di Leonida. Muah! Salviamo e che fai non salvi? Salviamo. Benis. Si è brillato. Mangiamo? Sarebbe ora, sì. Ancora cinque minuti, dai. Intanto c'è Ciranos che ha qualcosa da dirci. Ciò che vuol dire? C'è la vita di un'esercizio. Ancora cinque minuti e delle panatine ci innamoreremo. Cinque minuti, solo cinque vedrai. Delle panatine ti innamorerai. Il prosciutto è così o così. Basta. Basta. Perché piange, Mantesso? Ciranos che ancora non hai capito che qua stiamo facendo di testa nostra perché di testa tua siamo finiti in un mare di melma. Ok? Per non dire di peggio. C'è un'esercizio. Diggio Iris. Non le inciti melisse. Siamo al diciottesimo capitolo. Sì, sì. Stasera mi serve calma la contessa. Calma. Calma. Calma e contessa non possono stare nella stessa frase. Bravi che... Bisogna produrre. Non è detto che produrremo. Chi lo sa. Ecco, mando il mio sostituto. Il Mantesso. Tac. Ci pensa lui. Ci pensa il Mantesso. Arriva lui. Bello, bello. C'è un'esercizio. C'è un'esercizio. Intanto abbiamo convinto il Gatto che cercheremo di mantenere i cambiamenti della storia al minimo. Onorevole, se la contessa vuole organizzare. Venga pure lei, venga pure melisse, venga pure... Venga pure miss. Venite tutti. Sempre roti in Discord. Non faccio niente. Ho un nuovissimo contratto. Che contratto è, scusi? Ha firmato un contratto per non farne niente? Non mi risulta. Qua i contratti si firmano solo per buttare sangue. Capito? Intanto lui ci sta dicendo. che quando viene glisse non lo dobbiamo inseguire assolutamente sto gatto non non mi torna non mi torna io mi quitto e mangio deciso brava moglie buon appetito tanto anch'io adesso stacco finisco sto dialogo colgato e stacco anch'io nuovo contratto solo l'ives baste mantesso non è valido quel contratto con chi chi ce l'ha dato quel contratto con chi l'ha firmata io non ne ho saputo niente quindi veda lei continuo a sostenere che non dobbiamo inseguire glisse ed è necessario per il progetto di preservazione dell'umanità ma ci crediamo buona cena moglie buona cena alla prochaine c'è la sciabolata in quel contratto onorevole la sciabolata il mio legale che dice che validis non valido validis nella sciabolata c'è scritto chiaramente che comanda melisse quindi melisse gli ordini di essere a disposizione tempo che manca la distruzione dell'umanità quattro giorni o i i i i i me i i i i i i i Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Allora, ci fermiamo qui, capitolo 18, capitolo 18 di 22, 21 più prologo, 22. E ci vediamo domani, però domani potrei dover anticipare, potrei dover anticipare. Sentitemi a me, sentitemi a me, se io facessi dalle diciamo 13,30? Ehi, mantes, purtroppamente... 13,30? 15,30? Questa è la mia offerta, prendere o lasciare? Offertis, offertis, limitatis, limited edition. Purtroppo a Mende, credo di dover fare così. Nel senso, meglio primo pomeriggio che la mattina, no? No? È meglio? Che fare per dire alle 10? O no? Io propongo 13,30, va là. Comunque vi confermo su Discord. Più che altro, perché poi è un casino, perché giovedì 90 su 100 non riesco perché suono la sera, ma devo essere via alle 17,30 e quindi giovedì non riesco a fare l'extra. E mercoledì devo vedere. Mercoledì sono incasinata con le prove, non lo so. No, 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 non circa 13,30 punto Alice, che fa rima con Iris. Comunque, confermo su Discord, come sempre. Ci vediamo domani, questo è sicuro, l'unica certezza. Vi auguro buona serata, buona cena. Ringrazio tutti quanti per la compagnia, nessuno escluso. A domani. Adieu mes amis. Adieu. 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 Non fate come le ragazze qua, non fate il karaoke alle vostre feste, perché avete visto come finisce. Adieu.